Qui stiamo parlando più che di partecipazione di criteri, di accesso, questo è quello di cui parla il Ministro Poletti, mentre quando noi parliamo di reddito di cittadinanza e di misure collegate al reddito di cittadinanza stiamo parlando di una manovra economica, perché l'idea è quella di creare un sistema in cui lo Stato o comunque degli intermediari dello Stato chiedono a delle persone che sono per ora fuori dal mercato del lavoro di essere ricollocate all'interno del sistema lavoro. Se poi rifiutano quel diritto lo perdono, questo è il sistema di cui noi parliamo, che è legato a tutta una serie di altre misure. In questo caso bisogna dimostrare di ricercarlo il lavoro però, non è poi così lontano almeno a vederlo. Ma stiamo parlando di cifre irrisorie rispetto al problema. Di quasi un miliardo di euro. Per quello diventa una misura che poi in un certo qual senso va a colpire soltanto alcune parti della cittadinanza. Bisogna capire come vengono individuate. Ci sono poveri più poveri, poveri con meno diritti, poveri che hanno diritto all'accesso e poveri che hanno... Noi parliamo di 4 milioni e mezzo di base, che probabilmente sono di più. Abbiamo fatto una stima di circa 10 milioni di persone. Mi sembra abbastanza improponibile andare a lavorare soltanto su 800 mila o un milione di persone. Questo è il punto. Se vogliamo fare una misura di inclusione sociale bisogna pensare a tutti. Se no diventa una misura in cui qualcuno si trova nella posizione di dover scegliere tra alcuni sì, alcuni no. Qualcuno può essere pure un gruppo di diversi soggetti che vengono messi assieme ma sempre si tratta di persone fisiche che dovranno scegliere tra alcune parti della società ed escluderne altre. Invece credo che uno Stato che si voglia definire Stato nel 2016 all'interno di un'Unione Europea in cui i meccanismi del genere sono previsti da parte degli altri Stati membri deve pensare a tutta la popolazione che si trova in questa situazione di difficoltà.